Record il prossimo per l'ITI Buonarroti di Trento. Felicia Protok, Quinta Aua, Buonarroti di Trento. Da grande vuole fare l'ingegnere elettronico e fa parte di una squadra con Samuel, Nicolò e Stefano che a luglio andrà a Bangkok, Thailandia, ai mondiali di robotica. Con Cassiopea, il suo gruppo, primo qualificato alla RoboCup Junior 2022 categoria Maize, ha progettato questo robot che è in grado di esplorare un labirinto, cercando di trovare, in un ipotetico contesto catastrofico, delle vittime e prestare soccorso. Il robot individua l'obiettivo, qui lettere e colori, ed è in grado di rilasciare piccoli kit di emergenza, salvando così la vita ad ipotetici esseri umani in pericolo. Un progetto difficile, anche solo da immaginare, ed allora ecco come si fa. Tramite elettronica e informatica, unendo le due discipline, siccome abbiamo anche una squadra di indirizzi diversi, riusciamo a confrontarci a avere opinioni diverse e quindi realizziamo questa cosa. 1.700 iscritti alle Itibuonarroti di Trento, 300 tra docenti e personaliata a un paese nella città. Le iscrizioni sono in costante aumento, il prossimo anno le classi passeranno da 84 a 87. Questo è un istituto tecnico-tecnologico dove, per ovvie ragioni, si dà particolare spazio e rilevanza all'apprendimento di quelle che si chiamano STEM, ossia tutte le competenze di carattere scientifico e tecnologico che appartengono sicuramente alle competenze di oggi e necessariamente di domani. La gran parte degli studenti, oltre il 60% alla fine di questa scuola, si iscrive all'università, per lo più in ambito ingegneristico, ma anche sanitario. Qui si studiano biotecnologie sanitarie, chimiche e dei materiali e si coltivano competenze, non solo in campo tecnologico, ma anche umanistico. Quattrocento.